ciao ragazzi boom 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 questo mese ve la do in super anteprima ecco il nuovo dream fest brian clayworth blu con tecnica principale combinazione istantanea andiamo a vedere subito i parametri che sono 24.444 di attacco 16.122 di difesa e 20.626 di forza fisica ha il passivo delle statistiche più 5 per cento quando si vinge un contrasto ogni match up e lo può fare per tre volte quindi arriva un massimo del 15 per cento sommati questa è la passiva e i giocatori non giapponesi world youth prendono il più 15 per cento come abilità di squadra questo sarà il nuovo dream fest ragazzi finalmente rispondiamo alla domanda di quale sarà il nuovo dream fest sarà questo brian clayworth chiaramente sono queste le informazioni che abbiamo adesso il giocatore poi la suddivisione del giocatore all'interno del database si vedrà soltanto quando il giocatore verrà rilasciato ovvero il giorno del dream fest per il momento vi metto questo poi c'è spinning volley come tiro s di grado s è il il dribbling di grado a di di brian clayworth appunto attenzione occhio consumo stamina 3 90 e 4 45 l'imbedo massimo per la tecnica di grado s di di combinazione e 4 40 l'imbedo massimo del tiro del 405 il consumo e 200 per quanto riguarda la rotazione il dribbling e 295 la stamina e l'imbedo massimo attenzione attenzione finalmente qui molti grideranno al miracolo ma suyama verrà all'attentato e questa è l'altra caratteristica principale di questo dream fest di fine mese ma suyama riceverà queste statistiche attenzione la prima cosa che faccio notare è cambiata completamente la passiva di ma suyama statistiche più 20 per cento quando si si prevede il contrasto insomma si vince prevede il contrasto quindi statistica completa passiva completamente cambiata inoltre la latenza gli conferirà il l'annullamento e il l'annullamento di due tecniche speciali di due sigilli l'incremento del 1 per cento dei parametri per quanto riguarda le statistiche dei giocatori giapponesi presenti nella nostra squadra e il recupero dell'ottanta per cento nel tempo di stordimento quando avviene un contrasto 5 per cento di chance per attivare l'auto intercetto e inoltre il 3 per cento durante il full power social attivo questo per quanto riguarda la latenza di matsuyama che trasforma completamente questo giocatore dream fest giocatore che meritava la latenza perché uno dei più vecchi è uno di quelli che appunto ne aveva più bisogno e che farà gridare al miracolo sicuramente in molti e dunque ragazzi dal vostro catalto che per questo mese vi ha portato in assoluto anteprima anche a un orario anche abbastanza improponibile questo quello che succederà al dream fest è tutto ci vediamo nei prossimi video ciao ragazzi ciao 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 ciao